La speranza Marco la esprime con un sorriso che emoziona, attaccato ad un ventilatore per vivere, affetto da atrofia muscolare spinale, l'asma, nella forma più grave di tipo 1, che compromette le capacità motorie, la respirazione e la deglutizione. La diagnosi terribile quando aveva poco meno di 60 giorni, ora più di un anno, l'Agenzia Italiana del Farmaco però non autorizza la somministrazione del zolgesma, superati sei mesi di vita. Ora Marco è stato tracostomizzato, però il suo polmone è quasi non funzionante e l'altro troppo espanso che andava quasi a coprire il suo cuore. Però fortunatamente adesso abbiamo scoperto da pochi giorni che il suo polmone è tornato quasi al suo posto e anche quello destro. Marco con il fratellino e i suoi genitori vive nel piccolo centro di San Ferdinando di Puglia e il sindaco Salvatore Puttiglia ha scritto al governo e alla regione per chiedere aiuto. Il farmaco può essere somministrato solo all'estero fino a che il peso del bambino non raggiunga i 21 kg. Ora è corsa contro il tempo per Marco e gli altri bambini pugliesi affetti dalla stessa patologia. Le famiglie sono in contatto tra loro. Abbiamo aperto una raccolta a fondi che su GoFound è chiamata Una speranza per Marco, dove chiediamo a tutto il popolo di aiutarci per volare all'estero e aiutare mio figlio. Siamo 14 bimbi su questo gruppo e siamo tutti uniti per lottare per vincere questa grande causa.